A Dampas Toscana, l'associazione nazionale delle pubbliche assistenze, il servizio civile è una grande risorsa e per il prossimo bando sono già pronti ad accogliere i civilisti. A Dampas Toscana investe sul servizio civile, giovani sì, sono progetti per voi positivi? Assolutamente sì, sono progetti positivi che noi ringraziamo Giovanni Sì e Regione Toscana perché molto spesso per noi sono quella benzina che rappresenta il rinnovamento. Per esempio il collega viene dal servizio civile e per lui in effetti si è tradotto in definitiva poi anche in un posto di lavoro. Oltre che il rinnovamento abbiamo un ragazzo che ha una prospettiva. A Dampas Toscana, buongiorno, sono Leonardo. Leonardo Giorgetti è entrato in questo ufficio come civilista e dopo 365 giorni di servizio per lui, da quell'esperienza, si sono aperte poi le porte di un vero e proprio posto di lavoro. Sì, io ho fatto servizio civile nel 2009, servizio civile presso la pubblica assistenza di Calenzano che è l'associazione dove faccio volontariato e una volta finito il servizio civile sono sempre rimasto in contatto come referente di zona per la zona fiorentina per il servizio civile dopodiché c'è stata questa possibilità di trasformare quello che facevo come volontariato in lavoro e quindi unire le due cose. Mi reputo anche fortunato di aver avuto questa possibilità che comunque in molti spero di averla ma purtroppo non tutti diventano poi dipendenti di un ente o comunque di un'associazione. Sono le 15 di un giorno feriale. Mezz'ora prima Andrea Palazzeschi ha staccato dal lavoro nel suo ufficio al sesto piano della procura di Firenze. Lo incontriamo proprio qui all'uscita e ci confessa come il suo servizio civile per lui che è laureato in legge è molto impegnativo ma al contempo molto molto gratificante e positivo. Ho visto il bando, era molto interessante perché riguardava una materia che solitamente non si fa proprio come studente di giurisprudenza e quindi per approfondirla ho deciso di farlo. Che materia è? Sicurezza sul lavoro. Quindi diciamo tutta la gestione sui luoghi di lavoro per quanto riguarda probabili infortuni eccetera. Quando è iniziata a settembre immaginavi che il servizio civile sarebbe stato proprio questo? Mi aspettavo una cosa più facile in un certo senso. Invece abbiamo gli stessi diritti ma anche gli stessi doveri di qualsiasi membro del personale. Quindi facciamo sei ore, abbiamo l'orario di entrata, l'orario di uscita. E' come se fosse un lavoro per il proprio, come sono me anche giusto che sia.